Quella di ieri, 6 ottobre, è stata una notte molto movimentata all'interno della casa del grande fratello. Le richieste di Alfonso Signorini sono finalmente state esaudite e, a quasi un mese dall'inizio del reality, i ragazzi sono sempre più uniti e stanno finalmente nascendo i primi interessi tra i coinqui. In casa c'è stata una grande festa e, durante la serata, è successo veramente di tutto. Da un lato, c'è stato un forte avvicinamento tra Heidi Baci e Vittorio Menozzi, che si sono persino resi protagonisti di un ballo provocante insieme sotto la... I due sembrano essere più uniti, a discapito di Massimiliano Varrese, che forse dovrà finalmente arrendersi davanti al rifiuto della giovane. Ma, non è finita qui. Alcune dichiarazioni di Samira Lui e Paolo Masella hanno spiazzato. Samira Lui cotta di Giuseppe Garibaldi? Cosa sta succedendo? Durante la serata, Samira si è ritrovata con le altre ragazze della casa e, tra chiacchiere e risate, ha confessato di essere interessata ad un altro coinquilino. Chi ti piace? Giuseppe? Le hanno chiesto Heidi e Letit. Al che, la modella ha spiazzato tutti, rispondendo, un po'. Da lì, tutte sono scoppiate in una forte risata, basite dalla notizia. Il video di quel momento ha subito fatto il giro del web, lasciando i fan del programma senza parole. Ricordiamo, infatti, che Samira è fidanzata da tempo con il modello Luigi Punzo. D'altro canto, recentemente Giuseppe si è avvicinato molto a Beatrice Luzzi, dando vita ad un possibile flirt che sta facendo molto chiacchiera. Tuttavia, c'è chi dice che l'ex volto dell'eredità stesse scherzando e che, in realtà, la dichiarazione non era altro che una battuta. Paolo Masella è sicuramente uno dei protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello. Il macellaio sembrerebbe aver fatto una vera e propria strage di cuori all'interno della casa più spiata d'Italia, tanto che addirittura tre coinquiline potrebbero essere interessate a lui. Inizialmente, in molti avevano notato una certa intesa tra Paolo e Letizia Petris, tra coccole e gestia. Tuttavia, quest'ultima si è tirata indietro, ammettendo di aver notato un certo traporto da parte del ragazzo verso Anita Olivieri. Masella, infatti, le avrebbe raccontato che, dopo aver la vita col fisico perfetto i miei occhi hanno fatto tipo tergicristallo. Perfecti. Ilrayo. Ilrayo. tuitionanono. Grazie.